novità in arrivo per la splendida conduttrice alessia marcuzzi scopri le sorprendenti opportunità che l'aspettano nel mondo dello spettacolo alessia marcuzzi un'icona dello spettacolo italiano si appresta ad attraversare un periodo di significativi cambiamenti e opportunità la sua presenza nei media è stata costantemente seguita con grande interesse ma negli ultimi tempi è stata la sua vita privata oggetto di intense speculazioni e dibattiti soprattutto per quanto riguarda i presunti flirt e le relazioni passate quello che ha fatto sicuramente più scalpore è stato il presunto flirt con il bellissimo ballerino stefano de martino allora ancora fidanzato con l'ex moglie belen rodriguez nonostante l'attenzione concentrata sulla sua sfera personale alessia ha continuato a distinguersi nel mondo della televisione oltre alle sue partecipazioni di successo nella seconda edizione di boomerissima e nel programma viva rai 2 viva sanremo insieme a fiorello la marcuzzi si sta preparando per un futuro ancora più ricco e stimolante le ultime indiscrezioni provenienti da fonti autorevoli come da gospia suggeriscono che alessia marcuzzi stia per vivere un periodo di grande soddisfazione nella sua carriera il 3 maggio infatti avrà l'onore di condurre insieme a carlo conti la prestigiosa cerimonia dei david di donatello un riconoscimento del suo talento e della sua influenza nel mondo dell'intrattenimento televisivo italiano ma le sorprese non finiscono qui sembra che un nuovo e ambizioso progetto televisivo su rai 2 sia già in fase di sviluppo un'opportunità che potrebbe rafforzare ulteriormente la sua posizione di rilievo nel panorama mediatico nazionale nonostante le pressioni e le sfide che inevitabilmente accompagnano la sua carriera alessia marcuzzi dimostra una determinazione e una grinta inarrestabili con la sua inconfondibile carisma e il suo talento innato è pronta a cogliere ogni nuova occasione e a continuare a incantare il pubblico con la sua presenza magnetica sullo schermo ancora una volta la talentuosa e affascinante conduttrice si appresta a guidare con maestria il nuovo format che le hanno riservato